Arrettini sempre più poveri, almeno a giudicare dai nuovi dati pubblicati dal Sole 24 Ore che si riferiscono ai modelli 730 del 2014. Arezzo si trova al 22esimo posto con un reddito medioannuo di 22.317 euro, il callo rispetto al 2010 del 2%. La media nazionale nel periodo 2010-2014 si è attestata a quota 24.240. Arezzo viene prima comunque di altre province toscane, Livorno è 36esima in graduatoria, poi Pisa, Firenze, Lucca, Grosseto e Prato. La posizione in classifica è comunque dovuta ad aver limitato il calo di reddito rispetto alla precedente rilevazione, mentre come valori assoluti le altre province hanno redditi più alti di quello aretino. Ma il dato veramente preoccupante è un altro. Secondo la stessa classifica del Sole 24 Ore, il 42,9% degli aretini guadagna meno di 15.000 euro all'anno, sprofondando dunque nella cosiddetta fascia di povertà.